Buonasera a tutti voi, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro Tg della Sera. Che apriamo con Amato De Monte che si è vaccinato, che sta per farlo, a comunicarlo in una nota al vetriolo e lo stesso direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Udine che ha anche annunciato azioni legali contro la campagna diffamatoria scattata contro la sua persona. Sentiamo. Il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Udine si è vaccinato o si vaccinerà nelle prossime ore? A dichiararlo è lo stesso anestesista al dottor Amato De Monte che in una nota ufficiale ha rivolto parole molto dure contro la legge che impone l'obbligo vaccinale alla categoria degli operatori sanitari. Non solo, il neodirettore della Sores ha anche annunciato azioni legali contro la campagna diffamatoria scattata negli ultimi 30 giorni contro la sua persona poco dopo aver accettato il nuovo incarico nella sede di Palmanova. Visto che l'intensa campagna diffamatoria, denigratoria e strumentale messa in atto nei miei confronti, dice De Monte, non accenna a placarsi, pur trattandosi di dati sensibili reputo opportuno comunicare di essermi sottoposto al trattamento con idoneo vaccino, da me valutato, meno rischioso per le mie attuali condizioni di salute, somministrazione, continua De Monte, che tra l'altro è stata già prenotata fin dallo scorso aprile. Contestualmente, continua l'anestesista, denuncio l'arroganza e la violenza di una legge discriminatoria e ricatatoria per tutti gli operatori sanitari, ai quali impone un trattamento medico obbligatorio, senza che vi sia alcun supporto scientifico che ne giustifichi il beneficio. Siamo al bollettino, 15 oggi nuovi casi di Covid in Friuli, Venezia Giulia su 6.912, tamponi molecolari e test rapidi antigenici realizzati. Si registra un decesso pregresso, una sola persona ricoverata nelle terapie intensive e anche negli altri reparti ricoveri. Restano 4, le persone in isolamento calore, sono 4.473. Passiamo alla cronaca, c'è un'allerta meteo della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, che ha diramato nel pomeriggio criticità idrologica per temporali per la giornata di domani. Dal pomeriggio sarà possibile quindi qualche temporale che successivamente potrebbe passare dalla montagna anche alla pianura, potrà essere anche forte con colpi di vento. E come si diceva la cronaca, un noto musicista di Aiello è rimasto leggermente ostionato questa notte nel tentativo di spegnere un principio di incendio che si è sviluppato nella sua cucina, nella canna Fumaria. Per fortuna per lui nessuna grave conseguenza, mentre un uomo di 69 anni di Tarcento ha riportato un trauma toracico dopo essere caduto mentre stava facendo un'escursione a quota 1500 metri nel Gemonese. E' stato elitrasportato a Udine, non è grave. Un italiano di 30 anni è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Tervisio, si trovava su un treno internazionale in arrivo da Villacco diretto a Udine. Era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Trapani, deve scontare 3 anni, 6 mesi e 20 giorni per un cumulo di pene, tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e molestie. Era stato appena rilasciato da una prigione austriaca per reati compiuti, oltre Alpe stava rientrando in Italia. Andiamo nella bassa friulana, sono 51 le persone e 32 i veicoli controllati con due contravenzioni applicate per le violazioni del codice della strada. Il bilancio è infatti dei controlli intensificati attuati a partire dalla scorsa settimana dai carabinieri della compagnia di Latisano sulla viabilità di Lignano, Sabbiadoro, in previsione della giornata caratterizzata da intenso traffico da e per la località balneare. Un giovane neopatentato è stato anche sanzionato per guida in stato di ebrezza. Ed è stato inaugurato questa mattina a Udine il nuovo laboratorio di meccatronica avanzata a servizio dell'Istituto Tecnico Superiore Malignani di Udine. È presentata anche la dirigente del Ministero dell'Istruzione, Zana Khan, la quale ha detto che la sfida a livello nazionale è di rendere più attrattivi e identificabili gli ITS, di raddoppiare gli iscritti in cinque anni. Sentiamo. Qui orientamento, educazione ed impiego diventano una sola cosa. Qui le imprese capiscono l'importanza della conoscenza e delle competenze. Lo ha detto il Presidente della Fondazione MITS, Istituto Tecnico Superiore Malignani di Udine, Gian Pietro Benedetti, in occasione del taglio del nastro di Lab MITS 4.0, laboratorio di meccatronica ad alto contenuto tecnologico. Nel corso dell'inaugurazione sono stati illustrati i dispositivi a disposizione dei corsisti, tra i quali un robot industriale antropomorfo, due robot collaborativi, stampanti e scanner 3D, oltre a postazioni PC. Per il progetto, la Regione ha stanziato 120.000 euro ai quali si sommano gli interventi dei privati, Daniele Automation, Fantoni, Beantec, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone Udine e Studio Architetto Baldo. Questo laboratorio oggi ha dimostrato che l'idea è valida. Ritengo questo un punto di partenza e non di arrivo. Speriamo che, auspichiamo che Roma dia un'identità che non ha ancora l'ITS. Crediamo molto al 2 più 1, ovvero due anni di ITS e un anno di università, per il diploma di Ingegneria via Istituto Tecnico, via ITS, che è un diploma di Ingegneria che è improntato al fare, oltre che alla competenza, i ragazzi responsabili del laboratorio avrete al guido, sono molto motivati, sono molto convinti, quindi meritano fiducia e una capitalizzazione di quanto hanno fondato in questi ultimi anni. Al taglio del nastro, oltre all'assessore regionale Alessia Rosolen e al sindaco di Udine Pietro Fontanini, è intervenuta anche Antonietta Zancan, dirigente del Ministero dell'Istruzione con delega agli ITS. Si è complimentata con la fondazione MIDS per i risultati di eccellenza raggiunti. Porto i dati del monitoraggio che è stato appena pubblicato dal Ministero. Il Friuli Venezia Giulia ha un indice di posizionamento da 11 anni, sempre superiore alla media italiana, quindi raggiunge il livello 8 quando la media è 7.2. Però ci sono altre sfide, lei ha detto che dobbiamo rendere più attrattivi e anche più identificabili. Gli ITS, la sfida è quella di raddoppiare gli iscritti? Sì, questo è l'obiettivo che pone il PNRR, è un obiettivo molto sfidante da raggiungere in 5 anni. E a questo si aggiunge la sollecitazione che è arrivata dal Presidente della Fondazione MIDS, l'ingegner Benedetti, sul 2 più 1. E queste sono decisioni politiche che non spettano a un funzionario tecnico. decisamente ci sono passi avanti notevoli, abbiamo sentito di accordi in alcune regioni che sono pilota e mi auguro che anche in questa regione venga fatta presto un accordo chiaro proprio per questo tipo di risultato. E sono 35 gli studenti che hanno ricevuto oggi il diploma di tecnico superiore al MIDS di Udine. Durante la cerimonia sono intervenuti anche ex studenti per testimoniare le proprie carriere professionali. Rimandata per ben due volte a causa della pandemia, si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei diplomi ai tecnici superiori del MIDS di Udine del Bienio 2017-2019. Si tratta di 35 ragazzi che hanno seguito i corsi di meccatronica, aeronautica e agromeccanica. istituito nel 2010, il MIDS oggi conta 74 soci. Sono molti i corsisti ai quali le aziende propongono contratti di lavoro prima ancora del diploma. Alla cerimonia sono intervenuti alcuni tecnici superiori diplomati negli anni scorsi per testimoniare le proprie carriere professionali. Tra loro Francesco Wallenari, in possesso della licenza di manutentore aeronautico. Sono stato subito impiegato, appena sono uscito dalla scuola, che prepara bene, veramente bene. Infatti è molto formativa ed è aperta a tutti. Infatti io non venivo dal mondo aeronautico, non ho fatto quelle superiori, ma sono sempre stato molto interessato al mondo aeronautico. Una volta impiegato mi hanno fatto fare dei corsi macchina che sono fondamentali perché vengono poi inseriti nella licenza di manutentore e permettono poi di lavorare su specifiche macchine. E quindi niente, sono impiegato in un'azienda che lavora su elicotteri, facciamo manutenzione su macchine che si occupano di antincendio boschivo. E niente, adesso è quattro anni che sono impiegato, sono estremamente soddisfatto e insomma sono convinto che questa scuola veramente prepari come si deve, anche perché a livello italiano è l'unica che permette di ricevere questo tipo di istruzioni in questo breve periodo di due anni. L'assessore regionale al lavoro alla formazione Alessia Rosolen ha ricordato l'impegno della regione su questo fronte, impegnata nella creazione di un sistema e nello sviluppo di un territorio nel suo complesso. prossimo step, favorire il contatto tra l'università e gli istituti tecnici superiori. E sono stati presentati ieri gli accordi raggiunti dell'Acquedotto Poiana con CAF che è S.P.A. sulle possibili forme di collaborazione e integrazione aziendale tra le due società. Si è tenuto ieri pomeriggio a Cividale del Friuli l'incontro dei 12 comuni soci di Acquedotto Poiana S.P.A. che hanno presentato gli ultimi accordi raggiunti con CAF che S.P.A. Risale al 3 giugno scorso l'approvazione dei documenti per l'integrazione tra le due società come ultimo atto di un capitolo aperto nel 2018. I sindaci dei 12 comuni coinvolti si sono detti onorati ed orgogliosi degli obiettivi raggiunti. Se Dario Angeli, consigliere del comune di Remanzacqua, ha sottolineato la credibilità e la funzionalità dei servizi erogati, Piero Furlani, primo cittadino di Manzano, ha ricordato la qualità del prodotto e la tempestività degli interventi. Tecnologie, efficienze e centralità dei cittadini sono stati invece i punti cardine del sindaco di Cividale Daniela Bernardi. È una grande soddisfazione poter essere rappresentanti di questi comuni e fare avanti un progetto così ben determinato. Un progetto che comunque parte da 20 anni, lavoro intenso da parte di tutti gli amministratori e che purtroppo con il 2023 deve portare ad un percorso di integrazione. Dopo il recente sciopero del panino e le proteste per l'escrizione ai centri estivi comunali organizzati dal comune di Udine, il centro-sinistra unito ha deciso di chiedere al sindaco di Udine, Pietro Fontanini, il ritiro delle deleghe dell'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia. Centro-sinistra unito per chiedere cosa? Per chiedere che il sindaco Fontanini ritiri le deleghe all'assessore all'istruzione. Siamo di fronte ad un accaporetto dei servizi educativi. Dal doposcuola, ai nidi, ai centri estivi, al servizio di pre- e post-accoglienza non attivato, in città c'è un fortissimo disagio. Noi oggi siamo qui in rappresentanza di una grande fetta di città che dissente da questa indifferenza legata alla gestione di questo tipo di tematica che si sono strutturate patologicamente e oggi vengono addirittura negate e ignorate. Noi siamo qua a chiedere che qualcosa cambi, che finalmente Fontanini decida di decidere qualcosa ritirando le deleghe all'assessore Battaglia. Adesso i tempi per ribandire una nuova gara ci sono, la cosa che speriamo come lista civica di Siamo Udine è che venga risolto il problema o che se no si riparta con un'altra gara. Stiamo monitorando la situazione costantemente, spiega l'assessore Elisa. Asia Battaglia, non sottovalutiamo alcun tipo di problematica che ci venga segnalata e proprio domani ci sarà una commissione che si riunirà sul tema della mensa. L'amministrazione comunale di Udine è sempre al fianco delle famiglie, non solamente per la mensa ma anche per tutte le altre necessità. E voltiamo pagina al punto di partenza il dramma del Covid che ha investito l'Italia, in particolare la zona di Bergamo, con una violenza inaudita. L'arrivo è il futuro del Paese. Giorgio Gori nel libro Riscatto lancia dei messaggi, lo fa partendo da quella che deve essere la sanità che nascerà nei prossimi mesi. Stamattina la presentazione a Trieste, nel pomeriggio a Udine. Il punto di partenza è il dramma del Covid che ha investito l'Italia, e in particolare la zona di Bergamo, con una violenza inaudita. L'arrivo è il futuro del Paese. Giorgio Gori nel libro Riscatto lancia dei messaggi e lo fa partendo da quella che deve essere la sanità che nascerà nei prossimi mesi. Il nostro sistema sanitario è un bene preziosissimo, sul quale non possiamo lesinare gli investimenti, soprattutto sulla componente territoriale, che nella mia regione, in Lombardia e quindi a Bergamo, si è dimostrata sicuramente l'anello debole. Noi abbiamo ottimi ospedali, ma un'epidemia non si combatte negli ospedali, si combatte sul territorio, là dove le persone vivono, intercettando il contagio il prima possibile. Per quanto riguarda le sfide del Partito Democratico, il suo partito, ecco che l'obiettivo deve essere quello di tornare a parlare con le persone. La necessità di riavvicinare a sé fasce di cittadini che negli ultimi anni hanno preso invece altre direzioni. Credo che sia determinante per questo far coincidere l'identità del Partito Democratico con lo spirito riformatore che anima il governo Draghi. E questo obiettivamente è materia di dibattito interno al partito, perché non tutte le sensibilità del Partito Democratico aderiscono con la stessa spontaneità all'agenda Draghi, qualcuno magari rimpiange il precedente esecutivo. Io credo che invece si debba tirare fuori questo spirito di modernizzazione, andando incontro a quelle fasce di cittadini che manifestano difficoltà concrete, materiali e che forse hanno sentito i piedi lontani in questi anni. E adesso siamo allo sport, al basket con l'impresa della web. Gesteco che ieri sera ha vinto gara 3 contro Fabiano. La partita era sulle 62-62, quando a un secondo dalla fine Leonardo Battistini ha piazzato un fortunato tiro da tre. Il match è finito 65-62 per i friulani e il palazzetto dello sport è esploso tra la gioia dei giocatori e il coach Pillastrini di tutto lo staff e del pubblico per l'occasione colorato di giallo e blu grazie a delle magliette celebrative della finale play-off consegnate ai tifosi all'ingresso delle palla gesteco. La partita è stata fin dall'inizio equilibrata e molto combattuta. L'ultimo quarto è stato pazzesco con tutto il palazzetto, con il piatto sospeso fino alla tripla decisiva di Battistini. Si torna sul palchè delle palla gesteco domenica, insomma domani per gara 4. Ed era l'ultima notizia del nostro DG di questa sera. Grazie a Francesco Snidre, Simone Caramaschi, Ada Peressi e alla messa in onda in regia. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.